Lavori in corso sulla strada statale 115 nel tratto sud occidentale Sicula, uno dei due cantieri e proprio a ridosso dell'ingresso in città e i tempi di realizzazione sono previsti in complessivi 12 ore. Secondo il cronoprogramma stilato dal gestore della rete stadale, già oggi intorno all'ora di pranzo le operazioni dovrebbero essere concluse. A comunicare l'esecuzione degli interventi è stata l'ANAS, nello specifico si tratta di due situazioni disgiunte in parti diverse del tracciato, uno che vedrà la partecipazione di Trenitalia e uno più tecnico che verrà messo in atto direttamente dalle maestranze del gestore della rete stradale. Partiamo dal primo che ha preso il via nella tarda serata di ieri e che riguarda più da vicino Licata, che prevede restrizioni alla circolazione sull'importante arterie di collegamento in attesa della sistemazione del passaggio a livello che attraversa la statale 115 all'altezza del casello della Playa. Dalle ore 22 di ieri sera alle 6 di oggi e tra le 8 e le 12 di mercoledì 17 febbraio verrà chiusa l'intera carreggiata della strada statale 115 sud occidentale Sicula tra il km 234 e 400 e il km 234 e 500 nel territorio comunale di Licata, si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa di ANAS. Il provvedimento si rende necessario per consentire a rete ferroviaria italiana di eseguire un intervento di manutenzione a un passaggio a livello. Durante i periodi di chiusura il traffico seguirà un percorso alternativo sulla viabilità locale con deviazioni segnalate in loco. L'altro intervento sarà invece più strutturale, riguarderà la creazione di alcune rotatorie e riguarderà sempre la sud occidentale Sicula che sarà interessata da cantieri per circa un mese, conclusione dei lavori prevista per metà marzo. L'ANAS comunica che sono ripresi questa mattina i lavori finalizzati all'eliminazione degli incroci a raso mediante la realizzazione di tre rotatorie tra il km 392 e 700 e il km 405 e 980 della strada statale 115 sud occidentale Sicula. L'interruzione delle elaborazioni si era resa necessario, si legge in un documento diffuso dal gestore della rete stradale, in attesa che il gestore della rete elettrica rimuovesse un palo dell'illuminazione posto al km 404 e 800, attività ultimata nella giornata di venerdì 12 febbraio. I lavori da parte di ANAS proseguiranno prevedendo il cablaggio dell'impianto di illuminazione e videosorveglianza, compresa la posa dei padi, la realizzazione della pavimentazione della segnaletica orizzontale e verticale, il ripristino del muro di confine, la posa del guardrail. Sarà inoltre riallocato il sistema di controllo del traffico al km 495 e 980, il cui plinto è stato già da tempo predisposto. Sono in corso, conclude la nota, le procedure di allaccio delle alimentazioni elettriche degli impianti di illuminazione a servizio degli svincoli realizzati al km 404 e 800 e al km 392-700. Le lavorazioni hanno termine fissato per il prossimo 15 marzo.